In questa puntata, Prospettive per il 2021 Difesa civica, il bilancio del 2020 Un augurio per il nuovo anno e le prospettive più attese Chiaramente la priorità ancora deve essere quella di lavorare e investire per la tutela della salute Per l'uscita dall'emergenza sanitaria Quindi riqualificare la nostra rete ospedaliera Rafforzare i servizi territoriali e l'integrazione sociale e sanitaria E poi gli investimenti in infrastrutture e il sostegno alle nostre imprese Sia attraverso i ristori, anche con attenzione a quei settori e a quelle aziende Che fino ad oggi hanno avuto meno attenzione da parte del Governo centrale Ma poi anche e soprattutto creando le basi e le condizioni per una ripartenza Perché noi dobbiamo guardare avanti Dobbiamo guardare ad una Toscana che riprende Possibilmente a correre il prima possibile Ne abbiamo tutte le caratteristiche Le priorità ovviamente rimangono quelle dell'economia Soprattutto legate a questo brutto periodo che noi tutti abbiamo vissuto Abbiamo ovviamente una grande pletora purtroppo di persone Che non hanno ricevuto niente dai decreti ristorici Che sono rimaste escluse, che hanno bisogno di sostegno Abbiamo da progettare una Toscana che purtroppo sappiamo sarà diversa Dopo la pandemia come sarà diversa probabilmente tutta l'economia nazionale se non mondiale Dobbiamo lavorare velocemente Perché ogni giorno di lavoro perso per molti dei nostri cittadini Può significare non riaprire il proprio negozio Può significare la morte del nostro comparto artigianale Che è fondamentale E soprattutto voglio ricordare che la Toscana ha prodotti di qualità Dall'eno gastronomico al commerciale al tessile Abbiamo tre distretti fondamentali che vanno salvaguardati e supportati adeguatamente E abbiamo da pensare a questo Fosse anche che si deve fare le notti per cercare di trovare soluzioni Ora è indispensabile farle perché ne va della sopravvivenza proprio di tutto il tessuto sociale Quelle che stiamo dicendo ormai da quando siamo arrivati qua La prima sicuramente essere al fianco di chi ha pagato in maniera folle La stagione dalla quale speriamo stiamo piano piano uscendo Noi dobbiamo non dimenticarci di quello che è successo fuori da questi palazzi Non dimenticarci che fuori da questi palazzi ci sono categorie intere Che rischiano di sparire Ci sono intere categorie economiche che rischiano di essere cancellate per sempre Dal tessuto sociale della nostra regione, della nostra nazione E a questi noi dobbiamo una risposta Oltre a questo il tema resta quello dell'equità sociale Noi dobbiamo garantire una Toscana in cui tutti i cittadini partono Con gli stessi doveri e gli stessi diritti Ad oggi c'è un gap incredibile tra chi ha tanti diritti A fronte di pochissimi doveri e richiesti E chi invece è richiesto un'enormità di doveri E non ha mai un diritto ogni volta che lo chiedi Quindi l'equità è il punto di partenza per il nuovo anno La Italia Viva vorrà portare avanti discussioni nel merito Penso a quello che abbiamo fatto sull'istituzionalizzazione della Guardia Medica Penso con le risorse da fare sulla sanità Il piano vaccini, accompagnare il percorso sanitario E fare investimenti strutturali, accompagnare il percorso del turismo Potrebbe essere l'anno della rinascita della nostra regione E quindi serve una grande strategia che riguarda il turismo La realizzazione degli interventi infrastrutturali che abbiamo chiesto Sostegno alle imprese e alle categorie sociali maggiormente in difficoltà E a tutti coloro che hanno perso anche e potrebbero rischiare di perdere il lavoro nei prossimi mesi Quindi sarà un anno complesso nel quale Italia Viva si farà sentire E giocherà una partita a favore dello sviluppo Ma anche dell'assistenza e del sostegno economico e sociale alle categorie più deboli Innanzitutto digitalizzazione La banda larga è una priorità ma a questo punto dobbiamo fare un passo indietro E pensare semplicemente già a dare una connessione internet ad alcune aree Siamo molto indietro rispetto al resto dell'Europa e persino a molte parti dell'Italia Innovazione che significa anche una digitalizzazione della pubblica amministrazione E in questo senso bisogna procedere speditamente Così come sta andando l'agenda della ministra Dadone Che sta facendo un grande lavoro in questa direzione E bisogna guardare all'ambiente Perché se è vero che la sanità è importante Gestire al meglio l'ambiente Andare verso un superamento delle discariche, degli inceneritori E rendere il Green Deal Quindi il patto per il verde, per l'ambiente davvero reale Bisogna andare verso un cambio di prospettive Aspettiamo il piano rifiuti ad esempio e il piano amianto E aspettiamo che la scuola in Toscana ritorni al centro dell'agenda Un grande investimento di sostegno alle nostre imprese Perché questo è quello che noi dobbiamo fare Dobbiamo capire che in questo momento noi dobbiamo tenere il tessuto economico Che abbiamo fatto da artigiani, tassisti, ambulanti, fieristi, bar, ristoranti Cioè da tutte quelle piccole imprese che in questo momento fanno grande fatica E che tutte le risorse devono essere messe lì a fondo perduto Perché quel tessuto commerciale e artigiano È il tessuto che ci potrà servire per ripartire Se non capiamo questo vivremo una crisi senza precedenti Perché andremo ad avere a marzo Purtroppo arriverà anche lo sblocco dei licenziamenti E quindi ci sarà la possibilità di licenziare Non ci sarà più la cassa integrazione che sosterrà i lavoratori E quindi i licenziati molto probabilmente non potranno andare da nessuna parte Perché lo Stato non ha più soldi L'unica possibilità è sostenere le attività imprenditoriali E questo lo possiamo fare soltanto attraverso alcune misure La prima è il fondo perduto Dobbiamo sostenere quello che noi oggi abbiamo Poi penseremo anche a come trasformare, a come riportare i turisti Ma se non facciamo questo E poi l'altra misura che noi dobbiamo fare È sostegno a medici, infermieri Al mondo del volontariato Perché chi va a giro negli ospedali Io mi sono fatto un giro anche la settimana scorsa Si rende conto come quel sistema è sotto stress Il difensore civico della Toscana Ha presentato il bilancio della sua attività nel 2020 Siamo a 1.900 istanze presentate dai cittadini Già oltre 100 rispetto a quelle dell'anno precedente E ci sono delle proiezioni per superare abbondantemente le 2.000 In questo conteggio non ci sono le pratiche che in questo momento sono in lavorazione Quindi una crescita prevalentemente sull'emergenza sanitaria 150 casistiche di natura generale hanno riguardato problemi di cittadini Sul covid, ma non singoli problemi Ma problemi che appunto riguardano la loro generalità di diritti Tante istanze sul tema dell'emergenza economica Bollette, luce, acqua e gas Quelle che prima pesavano in una certa maniera Con l'emergenza economica pesano molto di più La difficoltà dei cittadini è rivolta soprattutto ai gestori dei servizi Luce, acqua, acqua un po' meglio Grazie alla presenza di AIT, Autorità Idrica Toscana Dove c'è una conciliazione che viene svolta da anni Il difensore, grazie ad AIT, svolge questo ruolo di definizione delle controverse Tramite un organismo nato, appunto un organismo di conciliazione nell'acqua Ma la luce e il gas e l'energia hanno dei problemi perché l'interlocuzione è con non gestori di prossimità ma gestori nazionali Così il tema del digital divide della telefonia I cittadini vedono in noi un filtro Svoliamo una funzione di filtro verso i conflitti che i cittadini hanno con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici Siamo sostanzialmente nel corpo umano il fegato Da noi vengono a portare i problemi Da noi i cittadini trovano un punto di ascolto E noi cerchiamo di rimuovere gli ostacoli Che sovente hanno con la pubblica amministrazione Adempimenti online non sempre ben funzionanti Tutto il tema del rapporto alla pubblica amministrazione E anche trasporti pubblici che dobbiamo dire abbiamo rilevato molti problemi Soprattutto oltre che in sanità ma anche con i gestori dei servizi pubblici Soddisfazione per il lavoro svolto in questi mesi difficili è stato espresso nella tradizionale conferenza stampa di fine anno del Consiglio regionale La democrazia in Toscana non si è fermata nonostante il Covid In soli due mesi si sono svolte 14 sedute d'aula 32 commissioni La presenza di circa il 99% da parte dei colleghi consiglieri Solo 5 assenze su 560 sono le presenze complessive Noi ci siamo posti l'obiettivo di fare di questo luogo del Consiglio regionale Il luogo per dare voce a chi non ne ha, per farne la casa di tutti i toscani Per questo nel 2021 ci poniamo l'obiettivo che il Consiglio regionale della Toscana diventi il Consiglio regionale più digitalizzato d'Italia Questo serve da un lato per far lavorare meglio i colleghi consiglieri Ma soprattutto un modo per aprire all'esterno il Consiglio regionale Per dare a tutti l'opportunità di seguirci, di porreci sollecitazioni Di darci anche stimoli per il nostro lavoro E' una sfida che richiede il supporto di tutte le forze politiche e di tutta la struttura Perché noi vogliamo sempre più che il Consiglio regionale diventi la casa di tutti i toscani E infine un impegno che ci prendiamo Nei primi mesi dell'anno predisporre e dare a tutti i toscani che lo vorranno Un libro, un fotoracconto di questi mesi terribili della pandemia Con gli sguardi di chi ha operato in prima linea Degli operatori sanitari, medici, professionisti, infermieri, volontariato, forze dell'ordine E un modo anche per rendere omaggio a chi di loro è stato in prima linea E ha permesso che la Toscana abbia vissuto questi mesi di fatica, di dolore per tante famiglie Nella maniera migliore possibile Noi con il nostro lavoro vorremmo legiferare nella maniera migliore possibile Per fare leggi di qualità che siano in grado di dare ai cittadini chiarezza Oggi manca chiarezza Penso anche alle scelte che sono state fatte sulle zone arancio, rosse, gialle I cittadini invece hanno bisogno di risposte chiare Gli imprenditori hanno bisogno di tempi certi nelle risposte per poter rilanciare la loro azione E il prossimo anno noi dobbiamo metterci questa parola Chiarezza come parola attorno a cui Lavorare, impegnarci e dare risposte a tutti Indubbiamente non è stato facile perché è il periodo che rende tutto più difficile Essere qui a rappresentare dall'opposizione, dalla maggioranza, i cittadini toscani È particolarmente gravoso proprio perché abbiamo da affrontare una delle peggiori crisi dal secondo dopoguerra Il nostro dovere è quello di affrontare tutto responsabilmente Con le chiare distinzioni tra i rispettivi ruoli Ma cercando comunque sia il confronto, il dialogo In Ufficio di Presidenza abbiamo prodotto delle proposte di leggi importanti Per venire incontro a delle categorie che non erano state quasi per nulla considerate dai ristori nazionali Fuori c'è veramente sofferenza Noi dobbiamo interpretare questa sofferenza e dare risposte per quello che è possibile In modo torno a ripetere responsabile In più mi si lascia dire che è anche una grande occasione per affrontare ancora di più Il tema che mi sta a cuore è quello di una regione forte Sempre più forte per dare risposte migliori ai cittadini Io sono un regionalista convinto E mai come ora occorrono delle istituzioni capaci di affrontare le sfide di questi tempi Abbiamo vissuto mesi di grande sofferenza In cui vi abbiamo chiesto enormi sacrifici a ciascuno di voi, alle vostre famiglie Il vaccino ci fa vedere la luce in fondo al tunnel Però questo non basta Vi chiediamo anche di vivere queste settimane Quelle in cui la convivialità è maggiore Con grande responsabilità come avete fatto in questi mesi E credo che insieme vaccino e responsabilità ci permetteranno di uscire presto da questo incubo E di poterti tornare a riabbracciare tutti insieme E a rivedere e a rivivere la bellezza della nostra Toscana Oggi mi fa male al cuore vedere le strade di Firenze Completamente vuote, senza turisti ormai da mesi E tanti non possono ammirare quella bellezza che noi viviamo ogni giorno Ecco, se tutti insieme diamo il nostro contributo Le nostre strade torneranno a ripopolarsi E noi torneremo ad abbracciarci Auguri a ciascuno di voi e alle vostre famiglie Grazie a tutti